E niente, molta soddisfazione. Sai che sei stato buttato dentro nel momento in cui il risultato non era affatto scontato, perché questo ti dia molta fiducia anche per il proseguo della tua giovane carriera. Sì, sì, mi dà molta fiducia, sono entrato sull'uno pari, risultato sicuramente ancora in vitico, e ho cercato di fare il mio meglio e vediamo un po' nel proseguo della stagione. Intanto raccontaci un po' le emozioni di quando hai saputo della convocazione e poi dell'ingresso in campo. Sì, sì, questa è la quarta convocazione, c'è stata grande soddisfazione anche per quest'ultima convocazione, spieghiamo anche nelle prossime. E l'ingresso in campo? Quando ti hai chiamato? L'ingresso in campo mi tremavano un po' le gambe e volevo subito entrare in campo, si è anche visto, e Lorenzo mi ha detto aspetta, aspetta. Sì, ho visto che volevi entrare a tutti i costi, sì, sì. Senti, che voto ti dai per questa prestazione? Il voto sinceramente non lo so, ho cercato di dare tutto in campo, avere la massima concentrazione e ho preso i consigli che mi ha detto il mister prima di entrare in campo. Senti.